Libraio, poeta e scrittore. Questi sono solo tragettivi per descrivere lo speaker che state per conoscere. Ha esordito nel 2017 con il romanzo La Locanda dell'Ultima Solitudine e successivamente nel 2018 con L'Atlantele dell'Invisibile. Ha inoltre organizzato diversi eventi culturali e incontri con gli autori assieme a 350 scrittori. È un vero amante dei giochi di parole con una scrittura lieve e poetica. Con la presentazione dal titolo Istruzioni per perdersi in mare, primo trovare il mare, è un vero onore per me presentare Alessandro Barbaglia. Benvenuti, benvenuti davvero, benvenuti sui confini. Questa mattina ne attraverseremo alcuni, questa mattina cammineremo sui confini. Elisa, grazie, è stata una presentazione emozionante, non sono abituato. Benvenuti. Questa forse non è casa mia, ma questa è la mia storia. E adesso, adesso, adesso c'entrate anche voi. E adesso, ora, in questo momento, guardate l'orologio, guardatevi attorno. Non siamo più qui. Adesso è duecento anni fa. Adesso, in questo istante, adesso, in questo istante, è duecento anni fa. Quello lì? E quello lì? Quello lì è un ragazzino. Quanti anni ha? Venti? Ventuno? Ma che pelle bianca che ha. È come gobbo. Ma che fa? L'avete visto? Si è alzato, ha fatto un passo, ha zoppicato. Questo ragazzo zoppica. Si alza, attraversa la sala, esce in giardino, vede un uomo. Buongiorno, signor padre, gli dice. Buongiorno, signor figlio, si sente rispondere. Attraversa il cortile, attraversa l'orto, comincia a salire su un monte, è pendente e lui ogni passo che fa si tira dietro quella gamba stupida, quella gamba stupida su cui deve fare ogni passo. Qualcuno di voi se n'è già accorto, qualcuno di voi l'ha già visto. È miope, è miope, è tanto miope che se qualcuno di voi gli dicesse che è cieco, ecco, non si offenderebbe, perché per vedere qualcosa deve strizzare gli occhi, deve strizzare gli occhi come due stracci bagnati e sale, sale sul monte con questa gamba stupida, con questi occhi che deve strizzare per vederci qualcosa. Buongiorno, signor padre, buongiorno, signor figlio, sale e arriva in un punto che sa, arriva in un punto in cui è già stato, c'è già stato l'anno scorso e da quel punto lì in cima al monte, anche se sei miope, anche se sei quasi cieco, se arrivi lì, beh quella roba la vedi, quella roba scintilla, quella roba riecheggia, quella roba sa di sale, quella roba che vedi là in fondo è il mare e questo ragazzetto di ventun anni la vede e poi ci ritorna, ci ritorna ancora ed esce ancora di casa, attraversa l'orto, taglia per il giardino, sale, buongiorno signor padre, buongiorno signor figlio e comincia a salire con questa gamba stupida, con questi occhi strizzati, miopi e arriva fin lassù in cima al monte e vede e vede il mare, lui va lassù per vedere il mare ed è contento. Sì ma cosa vuol dire contento? Il ragazzetto, il ragazzetto lo sa, contento. Cosa significa essere contento? Contento significa circondato, il contento di un cerchio è ciò che gli sta dentro, il contento di una scatola è quello che sta all'interno della scatola stessa, contento significa stare all'interno di una circonferenza che ci contiene, contento. Ma davvero è così? Ma che fa sto ragazzetto lassù in cima per vedere il mare, per sentirsi contento nel momento di più ampia e massima estensione della sua cieca e miope vista, lui è contento. No qualcosa non va, qualcosa non funziona e allora lo rifà, esce di casa anche questa mattina, oggi, anche adesso, adesso che è 200 anni fa e questo ragazzetto ha 21 anni ed è proprio pallidino ed è gobbo e ha questa gamba stupida che si tira sempre dietro, buongiorno signor padre gli dice quando lo vede uscendo di casa, buongiorno signor figlio si sente rispondere e sale, sale, sale sul monte quando arriva lì esattamente oggi, 200 anni fa, in questo stesso istante lo vede una siepe, c'era anche l'anno scorso, c'era anche due anni fa, ma non era ancora così alta, non era ancora alta al punto giusto da impedirgli di vedere il mare, vede una siepe e il mare? E il mare c'è ancora certo ma è oltre, è al di là, non può far altro che per tornare al mare che sconfinare, superare quella siepe, andare oltre il proprio essere contento e finire dove? Lo sapete che fa questo ragazzetto 200 anni fa quando ha 21 anni? È un ragazzo, si siede su quella sua gamba stupida sulla quale ha camminato fin lì, quella gamba stupida che gli è servita per uscire di casa, per salutare il padre, dirgli buongiorno signor padre, per sentirsi rispondere buongiorno signor figlio, per arrivare in cima a quel monte da cui ha sempre visto il mare che quel giorno esattamente 200 anni fa gli fa vedere solo la siepe, si siede e scrive su un pezzo di carta, questo doveva essere un colpo di scena, è lì da tanto? e scrive sempre caro mi fu quest'ermocolle e questa siepe che dell'ultimo confine 200 anni fa, già come Leopardi, questo ragazzetto mio, quasi cieco e zopo a 21 anni quando quando si appunta all'infinito un testo giovanile diremmo oggi un testo trap diremmo oggi ma la prima parola che scrive su quel foglio che si è portato dietro per casa dopo aver salutato il padre, buongiorno signor padre dell'estremo confine lui si accorge che quella siepe che è stata piantata chissà quando in quell'estremo, in quell'esatto momento gli permette di sconfinare non c'era il confine prima, aveva sempre trovato il mare e non era mai stato contento abbastanza perché si era trovato dinanzi una distesa senza limiti, senza confini la vera felicità Giacomo Leopardi il naufragarme dolce in questo mar lo raggiunge quando il mare non lo vede quando vede la siepe quando è costretto a sconfinare ad andare oltre e la prima parola che scrive su questo che è il manoscritto del 1819 quando Giacomo Leopardi ha 19 anni scrive la parola confine poi la corregge perché è Giacomo Leopardi e la parola forse più giusta, più poetica è ultimo orizzonte ma prima lui scrive confine non ha dubbi ecco che cosa gli ha permesso di naufragare dolce in quel mare che non vede più il confine sì, ma che cos'è il confine? Giacomo Leopardi lo sa ne scrive pagine e pagine nello zibaldone confine significa cum finis finire insieme il confine parla sempre di nodi il confine è sempre un punto di incontro ai confini ci si incontra sempre perché il confine è finire insieme gli innamorati finiscono insieme a cena e magari anche a fare l'amore due persone che non si conoscono finiscono insieme nello sguardo reciproco che si danno riconoscersi e riconoscersi è un Dio e non ci si riconoscerebbe se non per il tramite del confine del finire insieme in quello scambio di sguardi ecco che cos'è il confine il finire insieme ed ecco perché al confine troviamo la frontiera e la frontiera è il modo che abbiamo di stare uno di fronte all'altro di riconoscerci cioè di conoscerci due volte di conoscere noi stessi nell'incontro che facciamo con la fronte altrui con gli occhi dell'altro sempre caro mi fu quest'ermo colle e questa siepe che dell'ultimo confine il guardo esclude ma sedendo e mirando in terminati spazi della da quella io nel pensier mi fingo e poi va e poi va per le morte e stagioni e la presente e vita e il suon di lei così tra queste immensità s'annega il pensier mio il naufragar me dolce in questo mar grazie grazie a tutti grazie a tutti